Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo server, nuova puntata, si direi Di FTP Unleashed, siamo sempre sullo stesso server, livello 30 Perché abbiamo fatto iniziare un altro libro, quindi abbiamo altri livelli perché è figo L'altro libro non mi ricordo che è uscito, anzi no, abbiamo iniziato un piccolo che è uscito con Fortuna 3 Ma non ci interessa perché abbiamo questo piccolo al momento E oggi inizieremo ad andare a craftare cosa di figo, quindi andiamo a casa di Umi Perché ieri sera, mentre non registravo, sono riuscito a far arrivare il upgrade home della Darkraft al tier 4 Cosa significa tier 4? Ora ve lo faccio vedere Dov'è la mia Minimum Stone? Oh! Io l'ho rubato la Minimum Stone Ah, mi sa che dovrebbe essere qui dentro, eh no, eccola qua Allora, aspettate Devo buttarci questo, questo, questo E basta, benissimo Allora, ehm, come si usa l'armatura della Towncraft Eh, della Towncraft, cioè della Darkraft Oggi andiamo a craftare proprio quella Abbiamo qui una chest, una, una crafting table Ok Facciamo in questo modo e ci craftiamo una Force Rod Benissimo, ok Eh, ci mettiamo quindi la nostra armatura in leather A posto Vedete che abbiamo fatto già la Force, il Force Buds La buttiamo per terra in questo modo E, premendo il tasto destro Boom La trasformiamo in armatura di Force Ok Dopo, su questa armatura, dobbiamo anche posizionarci delle robe Ovvero, potenziarla Andiamo prima con la Tunic Ci mettiamo Speed Wing E Damage Benissimo Go Posso che sia tipo una cosa migliore al momento da fare? Eh, dobbiamo metterci anche tipo questa Allora, l'energia è andata funzionando fino ad adesso Quindi posizioniamo dentro un po' di energia, va? Ok Sarà pronto fra poco, ragazzi Guardate quant'energia, wow Ok, Damage Speed e Wing Benissimo Stessa cosa facciamo anche su queste scarpe Bene E anche per le altre armor Quindi diciamo che Dovremmo craftare il tutto Eh, dovremmo buttare la nostra armatura nuova Cioè, vecchia Nuova Tutta completa Fa nulla Abbiamo fatto anche le altre scarpe Benissimo Perché qui dentro davvero Con questa armatura Possiamo fare di tutto Davvero cose spettacolari Possiamo addirittura volare, ragazzi Volare Ce ne andiamo conto Quindi tipo Cerchiamo di farlo ovunque Ok E uno di questo Lo E una cosa bella Che stiamo mettendo anche Damage Su questa Su questa armatura Cosa significa Damage? Significa che tipo Può colpire un tizio E levargli 15 cuori E non scherzo Non è con 15 cuori Eh 15 su 20 Infine sono La speculazione Quelli che escono sopra Sopra sulla Damage Indicators Che infine 10 cuori Sono tipo il doppio Ok Manca soltanto l'ultima Siamo pronti ragazzi L'ultimo pezzo di armatura E poi possiamo volare Infinitamente Dove vogliamo Quando vogliamo E perché vogliamo Yeah Ok Vieni qua Come vedete però Per farlo funzionare Abbiamo bisogno di Craftare questa roba Che è Un upgrade Con sopra Il tomo Ma vi farò vedere Come funziona Meglio un tutorial Penso sia La cosa migliore da fare O comunque Se è passato dal penale di Umi Umi l'ha fatto prima Quindi dovrebbe uscire meglio Guardate che dice Qualcosa di sopra Fino di tutto Guardate quanto corro Poi Sto planando ragazzi Ci rendiamo conto Ma ora non so Se prendo danno Tipo Ok Prendo pochissimo danno Da caduta Cioè non mi faccio Nulla Ottimo Wow Però voglio testare Un attimo Quanto levo Con la manina Allora C'è un caso Questo wolf C'ha poca vita Non va bene Non ci interessa Non stiamo volando Però planare C'è qualcosa di bello Allora Mangiamo un attimo Ok Questo maiale Era in circa 10 Con un colpo Lo stecchiamo Ok Ci deviamo 16 Con un colpo ragazzi Cioè 16 con una mano È tantissimo Non scherziamo Allora Qualche mob Stile nuovo E fighissimo Che ci vuole Fare Beta testing Niente Non ce n'è nessuno Ok ragazzi La cosa bella Che possiamo anche tipo Guardate Spaccare più velocemente Le robe Ok Allora dobbiamo avere Sempre la mano libera Quindi cosa Molto molto figa Possiamo anche spaccare La roccia Con questa mano Possiamo spaccare Fino al ferro Se non sbaglio Quindi tipo Soltanto l'ossidiano Non sarà spaccata Doviamo andare a casa mia Casa mia è di qua Se tipo riesco a passare Tra questi alberi Ok Ed è molto bella Molto bella Da questa armatura Benissimo Allora Oggi andremo a lavorare Come avevo già anticipato Su una roba Che è abbastanza carina Allora Prima di tutto Dobbiamo Lasciare questa roba Che non ci interessa E Ci servono Delle stone Ok Abbiamo 70 stone Che sono pochi Sinceramente Però possono bastare A un momento Per quello Che abbiamo in mente Allora Ci servono in circa Sono 4 16 blocchi Ok Prendiamo la nostra golden bag No Non è la golden bag Ma qui E dobbiamo prenderci Questi tin electron tube Ok Questi tin electron tube Con il tasto U Ci vediamo il crafting Di alcuni blocchi Che sono fatti Con Questi Blocchi Di Di stone Sono i farm block Abbiamo bisogno quindi di Un po' di copper Dei slab Ok E Ci dobbiamo fare quindi Le cose iniziali Ci sono i quarti Ci sono vari elementi Io però Prefisco più Questa farm block Fatta di stone bricks Copper Roba utile Ok Allora facciamo così Facciamo Copper 1 2 Ok Me ne servono in circa 16 per ora 16 Ok 14 15 16 E poi dovremmo avere Del wood Guardate quanto wood abbiamo Perché il mitico Ce l'ha regalato un pochetto Quindi tipo Adesso ne abbiamo A go go Ottimo Allora vado un attimo Per aprire la porta ragazzi E nel frattempo Però facciamoci Dei slab Benissimo E arrivo subito Anzi no Forse l'abbiamo risolto Ok Abbiamo risolto comunque La posta ogni tanto Da fastidio La mattina A posta abbiamo quindi Questi 16 E questi 62 Quindi andiamo A piazzarli Vicino a casa Non tanto lontano Anzi Qui dietro sarebbe Proprio il massimo Facciamo in questo modo Ok Facciamo tipo Spaccare qui Ottimo Ehm Quello che ho capito Spaccare qui Possiamo farlo E ok Abbiamo liberato un po' La roba Allora Ci posizioniamo Prima questi 16 blocchi E' più che 62 16 blocchi Vanno posizionati Vanno posizionati in questo modo Allora Dovremmo fare forza così 1 2 3 Ok Dobbiamo fare Una cosa di 3 per 3 Ah 3 per 3 Sono di più di 16 Ops Ops Avete ragione Yeah Ho sbagliato io Ok Andiamo a fare 4 strati 1 2 3 4 Ok Me ne servono 2 Più 18 Ok Sono 20 20 e 16 36 Ok Allora Quindi Me ne servono Altri 20 Ok Benissimo Ehm Poi Copper 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 Sono slab In questo tempo Dov'è il mio Copper Oh Copper Where are you? E' quando perdo il Copper Che E' abbastanza Fastidioso A posto Oh merda Li ho persi dentro Sbaglio Ah no Vabbè Li lasciati dentro Che non mi interessa Sinceramente Allora Hai notte Però abbiamo tizio del server Quindi per adesso Non possiamo farci nulla Ok Benissimo Oh L'armatura che si sta iniziando a rompere Non mi piace qualcosa Deve iniziare a ripararsi da sola Oppure devo prendermi il repair Sull'armatura Mi sa No Eh Me ne manca un blocco Ecco Questo qua No L'armatura non si ripara da sola Ops Ouch Benissimo E abbiamo fatto quindi questa cosa Cliccando su adesso Vedete che abbiamo fatto Il nostro Nostra Multifarm Finalmente Ok Come funziona Multifarm No dobbiamo Distruggere A queste parti Doveva essere Quattro blocchi Ok Quattro Dobbiamo fare Ok Allora Dobbiamo fare Prima che ci diamo Col creeper Anzi Visto che ci siamo Possiamo testare Il nostro corpo Migliore Oh Gli ho levato 16 Boh Altro corpo Ed è morto Va bene Dobbiamo un attimo L'armatura Perché sennò Non riusciamo A farci nulla Con questa Mi sa che speed Non è proprio Stato un'ottima idea Sinceramente Quindi la liveremo Ok Allora facciamo così Anche qui Quindi Quattro blocchi Anche qui Due Tre Quattro Oh Oh Mmm Perché prendo fuoco Anch'io Ok Ah La metto comunque Questa qua La vecchia Anche se si può Quasi distrutta del tutto Ma fa nulla Eh Ok Ok Due Tre E Quattro Benissimo Ah Qui devo finire Vero Poi Dobbiamo fare In questo modo Allora Se qui Allora Qua Oh Qui sotto Bene Dobbiamo creare una piazzaforma Che sia Distante Quanto l'ultimo blocco Quindi in questo caso Così Come ho prestato io I blocchi Ok Quindi mi raccomando Fate attenzione Posto in questo modo Oh Plà Sono altri Quattro blocchi Eh Poi Vabbè Ok Facciamo subito Subito Quello che vogliamo noi Però adesso Iniziamo In questo modo Vabbè Lasciamo però adesso così Poi possiamo sempre Implementare tutto il resto Ok Tanto non ci interessa Nemmeno Che ci sia tantissimo Di questa roba Tranquilli Ok Allora Deviamo fare in questo modo Adesso Piazziamoci dentro Della Dirt Bene Poi Ci servirà Del fertilizer Che si fa Semplice Semplice Con L'apatite Che abbiamo un po' Tanta Ok Apatite E sand Ah Un pezzo di sand Due pezzi di sand In questo modo Più una apatite Abbiamo il fertilizer Ehm Pesso me ne servono Altri tipo Tre o quattro Tanto basta Però per finire Un fertilizer Ce ne volete Un sacco A posto Quindi abbiamo finito Anche questa roba Poi ci serve Un aquos accumulator Che abbiamo già Ottimo E dobbiamo avere Anche dei Dei secchi Un secchio Un bucket of force Ok Un bucket of force Posso anche Tipo buttare Da qualche parte Ok dai Facciamo così Lasciamo questo Prendiamo un altro Di bucket Ok E ricopriamo Due pezzi di acqua Allora Qui dovrebbe esserci Tipo un pezzo E qui l'altro Benissimo Allora Ehm Poi Cos'altro ci serve Ci serve All'incirca Ehm Per adesso Almeno per iniziare Almeno due Tesseract Quindi Tesseract Ci serve Due liquid Tesseract Andiamo a fare Forza a questo Qua a base Ok Ci siamo Ardness glass Ardness glass Benissimo Sedici E Ardness glass Un diamante In mezzo Se non sbaglio E ok Tin Benissimo Allora Facciamo Ne facciamo Quattro Visto che Me ne servono Tutte quattro Quattro diamanti Benissimo E poi La tin Tin che abbiamo In circa Qui No Silver E tin Eccolo qua Ok Quattro di questi Quindi Li dobbiamo Tutti riempire Quindi Ok Dobbiamo levare un attimo Sta roba Ehm Come la levo Star hellstone Dovremmo avere Alcuni cosi non fatti No Non ce l'abbiamo Benissimo Possiamo anche morire Adesso Allora Ehm Facciamo così Leviamo un po' di questa roba E Lo spacchiamo Dai Perché non possiamo unire Ah no Vabbè Potevamo rompere questo È vero Stupido Vabbè Liquid Transpuser Internal server error What Vabbè Comunque Abbiamo fatto Liquid Transpuser Ci piazziamo questi quattro dentro E anzi Prima di tutto Dobbiamo fare in questo modo Cambiare questo coso E poi fare Di qui l'entrata Benissimo Anzi no Di qui dobbiamo Cambiare quella branch In modo tale Che possa uscire Allora Prendiamoci questi pipe Ok Dovrebbe Tipo Ehm Com'era Che usciva Hm Beh Dai Amico Devi uscire Devi uscire La cosa Devi uscire Niente Ok Abbiamo messo i medici Quindi questo tank Per adesso Lo mettiamo Qui Va bene E ci mettiamo Un po' di Ehm Underpearl Ne abbiamo due Tipo Mi serviranno Molte di più Sicuramente Ok Mettiamo questo Underpearl Ehm Iron Ok Allora Mi sembra Almeno uno 16 Tipo No Questa mi serve Benissimo Ok Magma Crucible Questa cos'era L'uscita Ah di qui c'è L'entrata Ah giusto Fare il contrario Ottimo Benissimo Ci posizioniamo In 4 Tetheract E dobbiamo Farci due Liquid Quindi questi Qui Si fa con Silver Tin E pneumatic Tube Ok C'è pneumatic Servo Nemmeno Il tube Allora quanto glass Abbiamo Ok pneumatic Servo Le facciamo Subito Facciamo Due pneumatic Servo Ci serve Un iron Anzi Due iron Se non sbaglio Sempre Ok Due iron E un pezzo Di redstone Eccolo qua Ci siamo Due di questi Poi Silver Con le solite Robo La posso Prendere Ok Due silver Due tin Un copper 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 Un copper Si Dov'è il copper Porca vacca Perché il copper Non riesco a mai trovarlo Ragazzi Oh 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 Succede qualcosa di bello Ovvero Stiamo prendendo l'energia Benissimo Robbio GG per noi Ehm Ehi Non ce la fa Con tutti quei macchinari Porca vacca Guardate quanti engine abbiamo Non riesce ancora a reggere il tutto Ragazzi Davvero Non so che cosa richieda Ah vabbè Questa cosa forse Perché tipo Stiamo usando questo Che specca un sacco di energia Ma che sta funzionando anche questo Ok infatti Sì Perché non funziona quello Arrivo su tutte ragazzi Ok ragazzi Riaccomi Allora Ehm Dobbiamo fare quindi Queste robe Abbiamo fatto Come vedete perché È quasi al limite Quindi dobbiamo piazzarci un po' di roba Allora ci sono due tin Due servo Ehm Due di questi qua Ehm Un copper E un paio di robe Ok Due liquid tesseract Benissimo Non si possono unire Ottimo Ehm Poi invece per Gli energy tesseract Abbiamo bisogno di Una lesson conductive Led Ed electrum Electrum Dovemmo averlo Mi sa Altro Ok abbiamo D'electrum Poi Il conductive Se non sbaglio Ci fa con l'oro Ah no Con l'electrum Sempre Ok Quindi possiamo farlo A mano Electrum Due di questi Due redstone Ok un po' di redstone Electrum Led Qui Ok Questo è silver Ah ok Led e silver Benissimo Ok E ci serve Anche il silver Quindi Su Su Giù 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 Eccolo qua Benissimo Quindi ci facciamo Quest'ultime cose Due di questi E due di questi Ok E li mettiamo qua Benissimo Abbiamo anche due Energy Tesseract Ok Allora Come li piazziamo quindi Ehm Troviamo Allora Un posto dove mettere Sta roba Facciamo così Facciamo Ehm Adesso lo posizioniamo qui Però poi vedremo Un posto migliore A1 2 E a 100 Ci mettiamo questo Aquus Accumulator Sopra ci mettiamo Un Liquid Tesseract Su cui mettiamo Configurazione Solo mia Anzi La prima qua Dobbiamo levarla Il nome Ok L'abbiamo levata Finalmente A posto Allora Andiamo con L'Owner Noi E facciamo Ehm Acqua Ok Ehm Due Plus Va bene Come vedete Il primo è questo Questo invece è il secondo Quello che ci interessa di più Ehm Come vedete quindi Questa energia Del Liquid Tesseract Questa Acqua che esce di qua Del Liquid Tesseract Aspettate Facciamo soltanto Ehm Send only Benissimo Deve arrivare direttamente Dentro al nostro Nostra Multifarm Benissimo Quindi andiamo su E anzi Prima di andare lì sopra Dobbiamo craftarci qualcosa Ovvero Farm Block Ok Allora ci serve Ehm Da Da fare Una Un Cheerbox Che si fa con Team Gear Ok Allora mi servirà Di tutto Le varie questi led Queste cose Ok Ehm Poi mi servono Un po' di queste robe Degli slab E Ehm Slab Ok Ehm Com'è che si faceva? Ah due Ok Due di qua sono slab E Come si chiamano quei cosi? Ehm Team Eccoli qua Team Electron Cube Me ne servono altre tre Benissimo A posto E quindi adesso Mi servono Ehm Andiamo sotto 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 Tre di questi Che vanno fatti con la Tin Ah Ah giusto prima Vanno fatti con la Stone Con la Gobleston Anzi Ok Gobleston Facciamo in questo modo Uno due tre Quattro Ehm Facciamo tutti e cinque Così E poi tre di questi Vanno messi con la Tin Quindi Scendiamo giù Scendiamo Opla Un due tre A posto Tre, quattro, tre, cinque Fa nulla Facciamo tutti i cinque così Ok Un due tre Poi Ehm Uno di questo E abbiamo la Gearbox La Gearbox Siamo per trasferire l'energia Quindi qualora Siamo più avanti Poi ci servirà Ehm La Stone Brick Hatch No anzi Prima facciamoci la Valvol Che si fa con la Tin Gear Del Glass Ok Quindi mi ha fatto bene a fare Un po' di Tin Gear Ehm Glass 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 Che dovrebbe essere tipo In mezzo adesso Eccolo qua Ok Una Valvol E poi un Hatch Hatch che si fa con due Tin Gear E una O una cosa del genere Ok Wood Opla Eh Siamo tanto due Ehm Poi mi sembra una di questa Bello craftare roba Velocemente Ok Cobblestone Benissimo Ah ma ci avevamo altre due Vero Porca vacca Ok Eh Tin Opla Abbiamo un'altra Tin Gear Due di queste Più una di questa E Una farm block Abbiamo il farm Hatch Benissimo Quindi facciamo in questo modo Quindi facciamo in questo modo Posto E andiamo su Oplapla Dobbiamo metterci l'armatura più figa perché dobbiamo volare adesso Quindi tipo questa la possiamo piazzare qui dentro Anche questa e questa e questa roba Benissimo Allora Saltiamo su questa cosa Benissimo E spacchiamo gli ultimi tre blocchi Tranquilli Se spacchiamoci Vabbè c'è ancora roba dentro Ok Hatch Valvol E Gearbox Ok Benissimo Allora Prendiamo il liquid desert Che lo mettiamo sopra la valvol Benissimo Andiamo con il nostro Owner 2 Quindi abbiamo dell'acqua E dovrebbe iniziare a riempirsi Vedete che sta iniziando a riempirsi Bene Poi ci mettiamo il fertilizer qui Benissimo E adesso invece ci serve Emetterci dell'energia Quindi energy tetract Di qui Ottimo Per ora facciamo una cosa abbastanza semplice Ovvero Facciamo Farm 1 Ok Con input 1 Aggiungiamo Ok E facciamo soltanto receive only Ok Quindi Andiamo a prenderci Dei force sapling Me ne servono un bel po' Force sapling Ok Mi sa che non riusciamo a farceli Abbiamo dei sapling Normali però In teoria Ok Dovremmo avere anche la bacchetta Qui dentro Andiamo No Non l'ho messa Force rod No Dove cavolo è andata? Ce l'avevo fino a Due secondi fa Ah L'ho messa qui vero Ops Colpa mia Ok Questi Piccoli alberelli Vanno piazzati Ok E fatti così Ovvero Fatti diventare Di force Ottimo Benissimo A posto Adesso li possiamo spaccare tutti Visto che ci servono I proprio I sapling Di questo colore Ovvero Quei force Benissimo Abbiamo Quasi completato oggi Per questa prima parte La prossima parte vedremo come ottimizzare il tutto E come funziona questa roba Allora mettiamoci dentro del force sapling E dobbiamo andare a prendere un force engine Aia Merda Ok Allora Force Engine Non abbiamo force engine No problem No problem Facciamoci allora Con dell'iron Un po' di questi blocchi A posto Ci servono poi Due gear A posto Ci abbiamo già due Due force Un pistone Che non ho ancora messo il crafting È vero Cavolo Ok Tanto è semplice Basta mettere del wood Della cobblestone Un pezzo Un pezzo di railstone E un ferro Opla Abbiamo un pistone Benissimo Allora Pistone Più due di questi Poi Uno di questo E Del force A posto Abbiamo un altro force gear C'è force Poi ci serve Del force Gem Benissimo Spacchiamo sta roba E Aia Mi sono fatto un po' male Allora Facciamo in questo modo quindi Qui dentro Ci posizioniamo Il tutto Benissimo E Per adesso Posizioniamo qui Un force Cioè il nostro Tetheract Con Questo qua Con Send only Questo abbiamo messo Resive only Ok E ci mettiamo Il nostro Così No anzi Facciamo in questo modo Se lo mettiamo sopra In teoria dovrebbe essere Ancora meglio In teoria Se faccio questo modo Funzionerà anche meglio Adesso questa roba La leviamo E ci posizioniamo Questo qua così Ok Ci posizioniamo Un po' Di force E come vedete L'acqua sale Perché Prende direttamente Dal tetheract Tanto qui è finito Ottimo Allora adesso Basta attivarlo In qualche modo Con una leva Con qualsiasi cosa Non abbiamo una leva Però possiamo sempre Usare il nostro Coso No è qui E cavolo Dai non è lontano Wow Allora lever Doviamo averne una Se non sbaglio Se ce l'abbiamo una La posizioniamo sopra Ok Bam Attiviamolo Come vedete inizia a pompare E sta mettendo la dirt per terra Guardate Sta piantando anche I nostri Belli sapling Di force E quando questi Cresceranno Automaticamente La nostra macchina Li distruggerà Figo Figo Direttamente Si Molto figo Ora Ristapetano All'altra parte Però penso che Abbiamo finito I sapling Fra poco Vabbè Tanto poi Li metteremo Un pochetto di più Ragazzi Tranquilli C'è il mitico Che ne ha un sacco Quindi li metteremo Li prenderemo Da lui Un po' E li useremo Dobbiamo semplicemente Finire però Un po' Di stone Ma comunque Vedremo nel prossimo episodio Ragazzi Come funzionare Il tutto E come sfruttare Questi force Perché non li stiamo Facendo sia a caso Ok ragazzi Al prossimo episodio Ciao 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 ciao